Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Come sapete accettiamo sempre molto volentieri di essere qui. Partiamo subito per non farvi perdere ulteriore tempo. Il Digital Earth Wallet non è altro che una identità digitale allargata di cui si sta parlando in Unione Europea. Finalmente l'Unione Europea si è posta, o meglio, sta portando a termine un percorso che cerca di identificare un luogo comune per i 27 paesi in cui condividere i dati dei cittadini e tutte le informazioni rispetto alla pubblica amministrazione. Qual è il cambiamento molto importante che si avrà? Anzitutto uno fondamentale, sapere i nostri dati dei pazienti quindi in mano a chi sono, chi li sta trattando e quali dati abbiamo ceduto. Ad oggi questo non è un quadro esattamente chiaro e molto spesso quando entriamo in ospedale o in studi specialistici ci viene chiesto appunto di cedere i nostri dati sanitari, alla luce della nuova legge europea, quindi limitati, ma alla fine non sappiamo che uso venga fatto di questi dati, si è anonimizzati o resi in altro modo disponibili ad altri professionisti. È un problema appunto che non riguarda solo le ASL o gli ospedali, riguarda in generale una mancanza di omogeneità sia a livello nazionale che addirittura a livello regionale se non europeo. Pensate che il professor Lopalco che voi conoscete, l'assessore della Regione Puglia, ci ha sottolineato come per esempio in Regione Puglia molto spesso durante l'emergenza Covid da alcune ASL i dati arrivassero sui pazienti via foglietto o addirittura con una trasmissione via fax. Questo ovviamente crea dei grandissimi problemi perché ci possono essere errori nella trascrizione, errori nella trasmissione, insomma il dato che è una cosa molto importante in questo momento potrebbe rischiare di essere perso o deteriorato. Ecco il Digital Health Wallet è un'app, è un accesso internet attraverso cui per noi sarà possibile viaggiare liberamente in tutta l'Unione Europea e avere i nostri dati sempre a portato di mano. Questo percorso secondo quello che è stato deciso a giugno perché è una proposta che ancora ha fatto la Commissione dovrebbe concludersi entro il 2030, però già viene fatto un appello affinché tutto questo acceleri all'interno dei paesi. Pensate che ancora non esiste neanche lo standard con cui vengono definiti e resi questi dati nelle diverse banche dati. Una cosa molto importante da dire quest'anno è che ovviamente l'abbiamo visto quanto sia importante avere delle informazioni affidabili sia sullo stato di salute che sull'avanzamento delle terapie per i pazienti. Questo permette ai medici di poter avere una fotografia in tempo reale di quello che sta avvenendo e anche di poter prendere delle decisioni, per esempio per le ASL piuttosto che per le regioni e il governo di salute pubblica. Quindi cose davvero molto importanti per noi. Aggiungo solo in coda che l'anno del Covid, come ha dimostrato anche il video che è stato trasmesso poco fa della FNOMCEO, ha permesso in alcune occasioni di superare quella crisi di fiducia che c'era tra medico e paziente, su cui noi dei cittadinanza attiva insieme al FNOMCEO ci siamo impegnati da un po' di tempo, perché crediamo che sia fondamentale un rapporto di fiducia. C'è da dire che stiamo registrando purtroppo in questo periodo degli episodi non molto piacevoli di ritorno a delle aggressioni dovute probabilmente ad uno stato di salute mentale un po' precario in questo periodo, cosa che ci preoccupa e che speriamo invece possa ritornare nella normalità, nella normalità vuol dire un rapporto di reciproca fiducia, di reciproco rispetto e non certamente aggressioni. C'è anche da sottolineare che nel periodo del Covid però non è stato tutto rose e fiori, abbiamo avuto diverse occasioni in cui ci è stato segnalato l'impossibilità di contattare il proprio medico di famiglia, magari perché è una situazione di rischio e quindi non era a disposizione per un periodo breve. Questo è avvenuto, però diciamo stiamo cercando di superarlo insieme in questo momento con una nuova sfida, cioè quella di tornare a curarci. Per noi quindi ci sono due grandi filoni molto importanti. Il primo è che effettivamente creare un ambiente comune in cui si definiscano i dati ceduti e si capisca che il dato è del cittadino e non è di nessun altro e che quindi il cittadino può essere libero o meno di cederlo a chiunque è la prima cosa fondamentale. L'altra invece è che effettivamente si riattivino bene tutti i canali di accesso alle cure perché i cittadini hanno risentito più di un anno di blocco in molte occasioni di accessi e questo sta avendo un effetto a catena anche sui medici, perdonatemi, sui professionisti. Come se appunto questa responsabilità fosse a mettere in capo i professionisti hanno un momento di crisi collettiva. Speriamo che ci sia uno sforzo adesso da parte delle Ase e delle Regioni perché si torni a permettere ai cittadini di avere un pieno accesso ai loro diritti alla cura e quindi di ritornare tutti a curarci e di non vedere solamente gli episodi appunto una volta che si sono aggravati come è avvenuto troppo spesso. Quindi da parte nostra un in bocca al lupo a tutti noi perché sarà un bel periodo in cui saremo tutti sfidati su lavorare in un'atmosfera ancora più digitale e ancora più diciamo grande di prima perché appunto avremo anche dei controlli diretti su questo, però credo che ne avremo tutti quanti un giovamento sia dal punto di vista della qualità delle cure che dal punto di vista della risposta pubblica. Ovviamente senza mai dimenticarci come sempre diciamo che il rapporto di persona e quindi il colloquio tra il professionista e il paziente non potrà mai essere sostituito da alcuna forma digitale anche con tutta la buona volontà della telemedicina però sicuramente il rapporto personale resta per noi il rapporto principale da favorire.